Cittadini, istituzioni, rappresentanti di associazioni hanno partecipato numerosi al primo appuntamento organizzato dalla Regione Toscana sul futuro dell'ex complesso monastico di Santa Pollonia a Firenze, tra via Sangallo, via Santa Reparata e via 27 Aprile. La Regione, che da alcuni mesi ha acquisito la piena titolarità del complesso, ha deciso di avviare un percorso partecipativo prima di affidare l'appalto per la progettazione e la fattibilità dei lavori di restauro. Noi crediamo molto in questa condivisione e soprattutto discussione di obiettivi. L'essere arrivati a questo punto è davvero un passo importante per noi, perché abbiamo dato l'avvio a un percorso che poi porterà a ripensare questo luogo naturalmente sempre come luogo di aggregazione giovanile, di studio e di attività culturali. Prima una visita guidata attraverso il complesso che oltre a essere luogo di aggregazione ospita tra gli altri la mensa universitaria e anche alcuni uffici di Fondazione Sistema Toscana, Fondazione della Regione, di Toscana Spettacolo, poi una tavola rotonda a cui hanno partecipato la vicepresidente della Regione Monica Barni e l'assessore alla partecipazione Vittorio Bugli. Ci sembra un buon modo per ripensare e confrontarci tutti insieme complessivamente su un immobile certamente di pregio, certamente storico, ma che può anche essere un immobile del futuro, nel senso che già si svolgono importanti funzioni ed è giusto sviluppare una sua collocazione nel centro di Firenze che sia ottimale per tutti. La Toscana è stata la prima Regione nel 2007 ad approvare una legge per il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni delle istituzioni, poi rinnovata nel 2013.